Bravo Nardero! E' un gioco in giurta! e quindi il processo però ancora per la Carispezia riceve Olagide 9 secondi per l'attacco Spezzino Pachkowski da 3 arriva l'errore il rimbalzo viene catturato da Masic 8-16-3-58 da giocare già bonus esaurito per la Carispezia con 4 falli di squadra Linguaglossa decide di andare da Olagide che si trova sola sotto canestro e realizza il canestro del 16 12 secondi per l'azione di tiro riceve Sarni si apre Templari ancora Sarni raddoppiata Templari accelera il movimento di tiro della sua tripla rimessa dal lato in zona d'attacco per la Carispezia quando siamo 2 minuti e 6 secondi dalla conclusione nel primo quarto palleggio aperto per Pachkowski anticipa il blocco di Sarni si butta a destra sbaglia comunque una buona lettura in questo caso per l'Ana Pachkowski